Mancano pochissimi giorni al referendum, mancano circa 10 giorni e la vittoria dipende da noi. Abbiamo tutti contro. Abbiamo contro B come Bagnasco, L come Lupi, CL, Maurizio Lupi. Abbiamo tutti contro PD, PD, L, La Curia, tutti i poteri forti della città. Ma noi non ci arrendiamo, siamo qui proprio per dire questo, che la scuola pubblica non si tocca, che non esiste, che 400 bambini siano costretti ad andare alla scuola privata, a pagare una renta, ad andare in una scuola cattolica. Noi vogliamo la scuola di tutti. È da mesi che ci battiamo perché la scuola pubblica torni al centro della politica. Basta, non ci possono imporre la privatizzazione e l'istruzione pubblica. E quindi stasera siamo qui per scatenarci, ma soprattutto per muoverci per la scuola pubblica. Quello che vi chiediamo è molto semplice. Da qui al 26 maggio, quando si voterà, dalle 8 alle 22, mi raccomando, date il massimo, cercate di attivarmi il più possibile perché questo referendum e la vittoria dipendono da noi. Corri sulle nostre gambe a cominciare da piacere, quindi scateniamoci per la scuola pubblica. Buona serata, ciao. Grazie. Grazie.